Nel giorno dedicato ai defunti c'è poca gente al cimitero Cartecchio di Teramo. La pandemia e soprattutto il timore del contagio hanno tenuto lontani i teramani dalle consuete e affollatissime visite ai cari estinti. Nessuna messa oggi, nella cappella cimiteriale, solo la benedizione del vescovo Lorenzo Leuzzi e i fiori deposti dal sindaco Gianguido d'Alberto ai morti di guerra. Ma c'è una novità. Questo sarà l'ultimo anno che il cimitero monumentale avrà ancora i padiglioni inagibili e chiusi alla cittadinanza. Inizia infatti il ripristino definitivo delle zone lesionate dagli ultimi terremoti. È l'ultimo anno che ci sarà, almeno per quanto riguarda la ricostruzione, l'accesso assistito. Fin dal primo incontro con il commissario Legnini e con Angelo Borrelli abbiamo rappresentato la situazione del Comune di Teramo e di tanti altri comuni dove non ci sono dei fondi stanziati per la ricostruzione sui cimiteri. Allora abbiamo lavorato affinché si intervenisse di intesa tra commissario della ricostruzione e protezione civile per intervenire con una messa in sicurezza che consentisse però di accedere. Quindi degli interventi che anche dal punto di vista economico, come ci dirà Giovanni, sono più convenienti rispetto ad un intervento più strutturato, legato solo e esclusivamente ad una messa in sicurezza. Questa è una notizia che vogliamo dire ai nostri cittadini che si entrerà con i caschetti all'interno dei padiglioni chiusi e si potrà entrare tutti i giorni. Il progetto di messa in sicurezza e di contemporaneo ripristino dei padiglioni inagibili del cimitero monumentale di Cartecchio di Teramo costerà 850 mila euro ed è imminente l'inizio lavori. Questa procedura posso garantirvi che forse se non la prima è la seconda in Italia dove attraverso l'interlocuzione tra protezione civile e commissario per la ricostruzione si è proceduti non a una messa in sicurezza e poi al ripristino ma bensì direttamente al ripristino perché siamo riusciti a far fare una progettazione che certificasse il valore del passaggio diretto alla ricostruzione ex novo dei padiglioni attualmente inagibili rispetto ad una messa in sicurezza. Quindi anziché appesantire le casse dello Stato, appesantire le casse per la ricostruzione con due passaggi che in qualche modo erano poi uno successivo all'altro lo facciamo direttamente con ovviamente la soddisfazione non solo nostra ma dell'intera città e definisce veramente un percorso deprimente, definiamolo così, di venire al cimitero e non poter accedere a poter fare un saluto a un proprio defunto, a un proprio caro in totale sicurezza.